Grande successo per l'evento Donne per le donne che si è svolto nelle grotte di Pertusa Auletta. Promosso dal Centro Antiviolenza Retusa Differenza Donne e dalla Fondazione Mida, la manifestazione ha posto l'accento su argomenti tanto attuali quanto urgenti, quali la cultura del rispetto, che trova importanti spunti di miglioramento sia in ambito sociale che ambientale. Il rispetto della donna e delle sue scelte è stata infatti la principale tematica trattata durante la serata che si è svolta nello spettacolare cornice dell'antro delle grotte, dove la presidente della Fondazione Mida, Maria Rosaria Carpagna, ha accolto Caterina Pafundi, responsabile del Centro Antiviolenza Aretusa di Atena Lucana, e Oriana Parrella, stilista ed ideatrice del marchio Stregatta Fashion, una linea di abbigliamento solidale e sostenibile prodotta nel Vallo di Diano e basata su due principi base, lo slow fashion e il no size. Dopo i saluti dei sindaci di Pertosa, Domenico Barba e di Auletta, Pietro Pessolano, si è avviato il confronto moderato da Anna De Mauro, che ha evidenziato l'importanza della moda nelle dinamiche di valorizzazione, autodeterminazione e tutela della libertà di scelta delle donne, e ha trovato il favorevole riscontro di un folto pubblico, che ha poi assistito ad una spettacolare sfilata dei capi Stregatta Fashion, indossati dalle attiviste del Centro Antiviolenza Aretusa e da altre donne volontarie che hanno trasmesso l'importante messaggio di cui il marchio si fa promotore. La bellezza non può essere legata a cannoni estetici come le taglie o a stereotipi imposti dalla società. La serata è stata impreziosita dalla collaborazione di professionisti del territorio, come Angela Scaffe e Marianna Lupo, e dalla esordiente Antonio Lamattina, le quali hanno magistralmente curato l'hairstyle delle modelle. Inoltre, a completare la rete di donne che ha gestito la serata, è intervenuta Graziana Roscigno, presidente dell'Associazione I Colori del Mediterraneo, che con un laboratorio pratico ha dato dimostrazione di come sia possibile tingere i tessuti con piante e parte di alimenti vegetali, mostrando anche le tonalità derivate proprio dagli scarti del carciofo bianco, eccellenza del territorio. La serata è stata prattorcinata dalla comunità montana Vallo di Diano e si è conclusa con una visita serale offerta dalla Fondazione Mida all'interno delle grotte di Pertosaoletta.